Porco il lama Quindi avevo questo video da fare Dei miei pensieri, le opinioni Qualche idea buttata lì Qualche cosa mi è girata per la testa Riguardo i nuovi Call of Duty Perché sappiamo che quest'anno uscirà sia Infinite Warfare Che la remaster di Code 4 Quindi non avrei saputo ragazzi sinceramente Quando ficcare questo video Allora ho detto oggi non ho niente da fare Ve lo ficco qua e basta Tutto qua ragazzi niente di preoccupante Sono solo dei pensieri così ecco Non è un gameplay, non è un video speciale Una cosa molto rilassante Perché sapete ragazzi Ho detto che il martedì Vi voglio portare la serie su come migliorare su Code Quindi vediamo un po' Adesso me la gestisco in questa maniera Il giovedì un video comunque Sempre un gameplay Magari col cecchino o una cosa del genere E la domenica mi è venuta un'idea Adesso ve la spiego velocemente Poi parliamo dei nuovi Code Praticamente mi è capitato parlando Con dei ragazzi giovani Ecco, youtuber emergenti Anche alcuni di loro Di parlare un attimo della mia esperienza Dei miei gusti più che altro su YouTube E mi sono accorto che Tutti i youtuber che io nominavo Tutti i video che facevo vedere Erano video che loro non conoscevano Non avevano possibilità di conoscere Perché dovete sapere che I miei video preferiti su YouTube Parlando comunque del gaming Sono vecchi video su Code Cose successe nel 2008, 2009, 2010 Quindi raga 2011 Un'annata buonissima per gli editing E i montaggi Quindi ragazzi sono cose che Voi non volete conoscere Però sono parti integranti Parti integranti di me Parti integranti di tutta l'intera community Perché se oggi si vedono video Su Happy Wheels Per dire un gioco a casa Un gioco qualsiasi Ma anche appunto su Code A maggior ragione Lo si deve in gran parte Secondo me A ciò Alle basi che si erano state buttate Appunto Attraverso Code Nella community mondiale Ok Quindi dall'America Alla Germania Per chi conosce Hazard Cinema Mi ricordo che C'erano dei ragazzi tedeschi Che la gestivano Tra gli altri Quindi raga Comunque Non sapete mai di cosa sto parlando E quindi a maggior ragione Vorrei portarvi la domenica Mai domenica sera Domenica pomeriggio Vediamo un po' Farà poche visualizzazioni Per carità Ma sapete che Non potrò probabilmente Neanche monetizzare i video Perché dovrò rubare Dei video dagli altri Dove ci sono magari Canzoni copyrightate Ma sapete Non ne frega niente Raga Giusto perché Penso sia giusto Che qualcuno Faccia conoscere Da dove tutto è nato Perché tutto non è nato Da me la godo Tutto non è nato Da me O da strategico Call of Duty O da cavolate Che si sentono dire in giro Non è neanche nato Tutto quanto Da Ziergrids Per quanto possa aver contribuito Quindi se qualcuno Mi interesserà Io la domenica Stavo pensando Di fare appunto Un video Sulla storia La storia La community Di code mondiale Quindi adesso Mi blocco subito qua E parliamo un poco Dei nuovi Call of Duty Ragazzi Perché Sapete Prima di tutto Voglio dirvi che Ho io Delle preoccupazioni Sui nuovi code Ma non Tanto per il nuovo Quanto per la remasterie Di code 4 E questo perché Perché oppure Di come verrà gestita E di quanto sarà diverso Dal gioco originale Però partiamo con ordine Allora prima di tutto Volevo fare anche Un brevissimo discorso Dovevo toccare il punto Del video Del trailer Del nuovo code Di Infinite Warfare Perché ha ottenuto Siamo tutti quanti Tantissimi dislike Sto dislikeato tantissimo Soprattutto poi In rapporto Al Battlefield 1 Che la gente Sta Sta amando Adorando E la prima cosa Che volevo dire È che Prima di tutto Chi gioca a Call of Duty Dovrà ricomprare Il nuovo Call of Duty A parte che sarebbe successo Comunque Ma io dico che Va fatto così Perché il giocatore Medio di Call of Duty Non sa giocare a Battlefield Non è in grado Non può farlo Morirebbe e basta Tutto quanto il tempo Perché sono stili di gioco Troppo diversi Io vi parlo schietto Lo sapete Call of Duty È molto più Noob friendly Non c'è nulla Ammazzate così Tranquilli Entrate in una partita Da soli Fai tutto quello Che dovete fare Battlefield è più complicato Da questo lato Ci vuole un poco più Di ragionamento Un tipo di ragionamento Che non è comune Al giocatore medio Di Call of Duty Quindi Se qualcuno di voi Che gioca a COD Da sempre Sta pensando di comprare Battlefield Come alternativa a COD Al 90% Sta sbagliando Se volete invece Impegnarvi E capire che È uno stile di gioco Completamente diverso Soprattutto se giocato In team Vi dà molto di più Per carità Io ho sempre Io preferisco Per certi aspetti I Battlefield Io ho giocato tantissimo A Battlefield Bad Company 2 Ma anche a Bad Company Bad Company 1 Davvero tanto Ragazzi Se qualcuno per sbaglio Mi segue da quei tempi E ho addirittura Fatto una volta Un montaggio Su Bad Company 2 Vietnam L'espansione Una delle espansioni Più belle Di tutti i giochi Secondo me Vi assicuro ragazzi Che cambia davvero tanto Quindi se Vedete Battlefield 1 Come alternativa a code Ragazzi state sbagliando State su code Che è meglio Per quanto riguarda Invece Ecco un altro discorso Che volevo fare È che molti di voi Non sanno che Dai tempi che furono Probabilmente da Già da MV2 Tutta la community Invocava Così Un rinnovo Di Call of Duty Diceva basta I soliti code Portiamoli Ragazzi Adesso io non so Sinceramente Perché non guardo I video di tutti gli altri Quindi non so se Quelli che sto dicendo Siano già state dette Ma a me non importa Perché ci tenevo a fare Un punto Perché ho fatto Un post su Facebook Dove non ero riuscito A dire tutto ciò Che volevo dire Perché sapete Non potevo scrivere Un post di 30 pagine Quindi Ho qualcosa Ho detto nei commenti Qua e là Vi dicevo Già dai tempi Dal 2010 circa La community Si lamentava Del fatto che i code Fosse sempre uguale Dicevano Cambiamo Andiamo nel futuro Mettiamo questo Quell'altro Eccetera E già dai tempi Non si capiva Che il fulcro di code Però rimaneva nel gameplay Quindi dico Non è che si potesse Cambiare più di tanto Se no si sarebbe andato A cambiare troppo la serie Però nonostante tutto L'Activision Ha cercato di modificarlo Infatti sono arrivati Giochi come Ghost Come Advanced Warfare E come io direi Già da MV3 Perché ragazzi Sapete che a me MV3 Non è piaciuto Proprio per niente Per me è stato Uno dei code più brutti Quindi su questo Ma capisco che ci siamo Pareri discordanti Ma infatti io vi dico la mia Perché per me il più bello È Code 4 Il mio preferito è World at War Mentre quello obiettivamente Più bello È Black Ops 3 Allora se voi ragazzi Andate a vedere il trailer Di Black Ops 3 Io vi assicuro che vedrete Più macchine Che esseri umani Proprio robot Eppure si è giunti Cioè da lì Io pensavo Non è Non è code questo Invece poi giocandolo Ho visto Perché Adesso nei commenti Certo la discussione Continuerà Però vi dico È il miglior code Mai realizzato Perché se vi notate bene In Black Ops 3 È stato preso Ogni aspetto Di qualsiasi code È stato esaltato E migliorato Al massimo Se noi prendiamo anche Il doppio salto Il doppio salto Di Infinite War Di Advanced Warfare Secondo me non era buono Perché non vi dava Abbastanza possibilità Di gestirlo C'era un doppio salto Semplicemente Poi c'erano Vabbè Tutte le possibilità Di muoversi di lato Cadere eccetera Però Con questo qua Si ha molta più libertà Di scegliere come saltare Ecco quindi Prima questo è stato migliorato È stato migliorato Il sistema delle casse Cioè Non si compra Più Per avere armi più forti Rispetto agli altri giocatori Non è un pay to win Come invece poteva Per certe armi Accadere su Advanced Warfare E sono esempi Per i quali posso andare avanti Davvero per tanto tempo Le mappe sono fantastiche Il gioco viene Continuamente inviorato Sapete Il fatto che Le armi vengono Continuamente ribilanciate Io non lo vedo Come Assolutamente Come un problema Perché Nei vecchi code C'erano Praticamente in tutti i vecchi code Armi molto più forti Di altre Vedete War that war L'MP40 Era indubbiamente Sbilanciato Disposto a tutte le altre armi Così come La carabina Sparava davvero Troppo velocemente Queste cose qua Sono semplicemente Ragazzi Delle conseguenze Del progresso Tutto qua Poi Dico Non capisco Come faccia la gente A lamentarsi Dei vecchi code Quando alla fine Ragazzi L'innovazione È normale Una cosa naturale Non possono Andare sempre Lo stesso code E ho letto addirittura Un commento Di un ragazzo Che diceva Fosse stato per me Avrebbero potuto lasciare Solo code 4 Ma riuscite a capire Che se avessero lasciato Solo code 4 Non avrebbero mai potuto Portare nuove persone Appunto su code Nessuno avrebbe più comprato Dopo 2-3 anni Perché certo Chi lo conosceva Ci sarebbe rimasto pure Ma come avrebbero fatto A combattere la concorrenza Appunto dei Battlefield Di quanti giochi Sono usciti ragazzi In questo periodo Da Titanfall C'è stato Brink Come si Blink Brink Come si chiamava Cioè ragazzi Centinaia di sparatutto Decine perlomeno Ma secondo me anche centinaia L'unica maniera Per riuscire a tenere testa È tramite innovazione L'uscita di nuovi capitoli Se fosse stato un code 4 Di base Fosse uscito Un nuovo DLC ogni anno Io sono sicuro ragazzi Che saremmo rimasti In quattro gatti A giocarci Non sarebbe mai arrivato Dove siamo ora Poi sfido chiunque A trovarmi un'azienda Nel mondo Che se ne freghi Di guadagnare E che Soprattutto con un prodotto Che va E lo lasci lì fermo Senza neanche migliorare O cercare di fare qualcosa Per Per ottenere più entrate Cioè è una cosa naturale Ragazzi Non c'è Non c'è niente di strano Per quello dico Se volete Chi vuole andare a giocare A un altro gioco Ci vada Poi quando tornerà Su Call of Duty Per si accorgerà Che il gameplay È sempre quello E che si trova meglio Rispetto ad altri giochi Che richiedono magari più impegno Ne riparleremo Comunque Ripeto Sono un po' di pareri così Cose che sto dicendo Un po' a caso Poi Sappiamo tutti quanti Che nei commenti Piano piano Io sono un po' Puntiglioso Su queste cose Al primo commento C'è qualcuno che scrive Una cavolata Secondo me è sempre Non è Non ho la verità in mano Ragazzi In una sfera di cristallo Però Ogni cosa che voi direte Sapete che Risponderò nei commenti Perché Sono anche preso La decisione Che mi prendo Un'ora e mezza Due al giorno Quando faccio un video Per rispondere a tutti i commenti Ripeto Voglio fare Il manuale Per diventare Un bravo youtuber Ecco tutto qua Piano piano Però La cosa che mi preoccupa Di più di queste cose nuove È Code 4 Perché sapete ragazzi Stavo leggendo Che Code 4 La remastered Verrà curata Da Raven Software Che sono gli stessi Che hanno fatto Il multiplayer Di Advanced Warfare Adesso magari mi sbaglio Perché lo spero Non ho niente contro di loro Però Dato che non mi è piaciuto Particolarmente Advanced Warfare Io ho paura Che mi rovinino Code 4 Che è il gioco Per me più Spettacolare Cioè ogni kill Raccogliere un'arma E va a tutto Un suo perché È davvero Molto bello Molto particolare Quindi ho solo paura Di questo Perché Indubbiamente Stanno modificando La grafica Abbiamo visto Qualche Pezzo Qualche Pezzo Qualche clip Video Però è quella La mia paura Che modificandola Così tanto La grafica Vadano inevitabilmente Di intaccare qualcosa Del gameplay Quindi beh Speriamo bene ragazzi Non lo so Io sono un po' preoccupato Però non si sa mai Poi abbiamo visto Non vi parlo Nello specifico Del gameplay Di Infinite Warfare Perché abbiamo visto Solo il single player Praticamente Il multiplayer In tutti i code È diverso Però da quello Che io ho visto Del single player Secondo me Così a occhio Non ha molto Di Advanced Warfare Avrà probabilmente I pack Però non A me ricorda Secondo me può essere Una buona sorta Di fusione Tra Mv3 E Black Ops 3 Ripeto Quindi secondo me Può essere buono E comunque Gestito Dalla Infinity War Dalla Infinity War Che Sapete ragazzi Se non sbaglio La fine di Mv2 Si era addirittura Quasi sciolta Cioè i big Della Infinity War Avevano lasciato Con gran parte Del loro staff Appunto L'azienda E siano trasferiti Quindi Già Mv3 Era stato gestito Da ciò che rimaneva Dell'azienda E non E non Dagli ideatori originali Infatti ripeto Per quello io Me l'ho visto Un po' titubante Non l'avevo L'avevo visto Con un po' di diffidenza Ecco diciamo Una cosa così Però ho comunque fiducia Nel lavoro che faranno Perché ragazzi La saga di Call of Duty Non è mai andata Meglio di adesso Sapete io sento anche Gente che diceva Ho letto Di commenti Di persone che dicevano Visto il fatto che Stiano portando Code 4 La remaster Vuol dire che il gioco Sta proprio andando male Stavo facendo schifo Ma siete pazzi Raga Cioè ripeto Black Ops 3 Penso sia quello Che è il code Che ha venduto Più in assoluto E sta andando Davvero alla grande Ripeto Già che io lo stia Giocando ancora Adesso siamo in estate Significa che è davvero Un buon prodotto Perché gli scorsi anni Ho smesso un po' prima E dicevo L'unica cosa È che secondo me L'hanno portato Come un qualcosa In più Proprio per il fatto Che questo code È stato davvero Troppo buono Lo sappiamo che La Treyarch Fa Cioè ormai Da sempre Non ha mai sbagliato Ecco La Treyarch Secondo me Non ha mai sbagliato Un code Però sono tutti Fantastici Inizialmente Infatti io preferivo L'Infinity World Grazie a Code 4 Mv2 Ma adesso poi Ragionando estremamente Da World at War Ai Black Ops Non c'è Non c'è davvero Storia ragazzi Quindi ripeto Se noi stanno soltanto Cercando di aggiungere Qualcosa in più Per cercare di mantenere L'eccellenza Che hanno raggiunto Con Black Ops 3 Non la vedo Come una mossa Per la crisi Per non sapere Come fare Perché altrimenti Avrebbero venduto Il gioco separatamente E non solo Con l'edizione particolare Di Infinite Warfare E tra l'altro Penso che comunque Avrebbe venduto Non di più Ma almeno quanto Appunto il titolo nuovo Però ragazzi Niente Volevo soltanto Fare questi Due Due commenti così Due ragionamenti così Per poi alimentare Il flame Che partirà Sotto i commenti Perché a me va Ecco Io sono davvero Affezionato Alla community Di COD Tanto quanto a COD A me piace un attimo Vedere la gente Cosa Pensa Come ragiona Quello che Puoi riuscire A tirar fuori Infatti mi piace Discutere di queste cose qua Perché Obiettivamente ci tengo E poi un'altra cosa Ragazzi Di cui volevo parlare Il video è finito Chiudete Andate via Un'altra cosa Previsita Di cui volevo parlare E che i miei amici Dell'università Hanno fondato una start-up Hanno avviato una start-up E praticamente Vi lascio il sito Il link in descrizione Non ve lo spiego bene Ora perché tanto Penso che ne parlerò Anche nei prossimi video Perché è un progetto La quale probabilmente Sto prendendo parte Perché sono interessato A dare una mano Si chiama Bartlex Ragazzi È un sito Vi lascio il link In descrizione Tra l'altro Esiste anche lì Il sito Il codice sconto La malagante Però non è che Abbia Entrate particolari Soprattutto adesso Quindi Vi voglio dire Sento che è un sito Che vi permette Di scambiare dei giochi Con altre persone Quindi dico Piuttosto che portare Il gioco Presso certi negozi Che Ve lo sottovalutano Avete la possibilità Tramite una valuta Virtuale Una moneta virtuale Di scambiarlo Più volte E ottenere Nuovi giochi Quindi Al valore Del gioco stesso Quindi ragazzi Che state scambiando È una cosa Abbastanza utile Dategli uno sguardo Poi vi spiegherò Meglio in futuro Come funziona Perché è una cosa Che si è appena avviata Quindi raga Devo fare questo vlog Semplicemente perché Mi andava di farlo Non è che ci siano Spiegazioni particolari Mi andava proprio di farlo Allora lo ho fatto Ci vediamo martedì ragazzi Con il video Su come migliorare Su code Il primo episodio Poi giovedì Un altro gameplay Ripeto Magari una cecchinata E domenica Parto con questo Piccolo progettino Del Della storia Di code Ecco Tutto qua raga Ci vediamo magari anche in streaming Ma lì mi avvio avviso Sulla pagina facebook Perché non so le date Dipende dal caldo Che fa Perché se avete con le cuffie Si sviene dal caldo Poi mi dite Che ho la manietta Maniche lunghe Ma perché devo darmi Un certo ordine di video Dai raga Porco il lama a tutti Ci vediamo al prossimo video Seguitemi su instagram Lama yt Porco il lama a tutti Cauto il telefono Ron è sexy Porco il lama Chappellano Grazie a tutti.